Quello che vediamo sono due belle querce, sono in via Stradello Hopi a Suzzara, sullo sfondo si vede anche la torre dell'acquedotto della Fiat Iveco di Suzzara, abbiamo anche la provinciale e sto facendo la misura con il tromino, oggi è il 24 febbraio 2015 e qui verrà realizzato un accessorio, una scala, un ascensore che collegherà questi due fabbricati. La giornata è umida, piove, dopo la prova sismica viene fatta la prova penetrometrica, il tutto serve per la progettazione delle strutture, a livello strutturale, di questa parte di fabbricato. Questo è tutto.